E' cominciata stamane la marcia di avvicinamento la Iugoslavia della carovana radicale per la prosecuzione dei lavori del Consiglio federale. E' stato infatti risolto ieri sera il problema dei traduttori simultanei necessari per la prosecuzione dei lavori, argomento questo che secondo lo stesso Pannella è stato completamente travisato dalla stampa, duramente criticata dal leader radicale che non ha risparmiato epiteti pesanti e del tutto gratuiti contro la categoria dei giornalisti. Il Consiglio federale ha tenuto seduta anche la scorsa notte, Pannella ha risposto agli interventi di Mellini, Negri e Rutelli, ha sostenuto che il primo segretario Stanzani ha posto apertamente il problema del finanziamento pubblico ed ha chiesto agli oratori che lo avevano preceduto in giornata di formulare proposte alternative. Pannella ha anche ipotizzato che obiettivi del Partito Radicale possono essere il reperimento di 15 miliardi di lire o l'iscrizione di 20 mila militanti non violenti. Il Presidente del Partito, Bruno Zevi, ha rilevato che non solo non si è trovato un connotato al Partito Transnazionale, ma non si è neanche tentato di farlo. E' necessario, a suo avviso, dare priorità all'attività dei gruppi parlamentari, inserendo tra i temi più urgenti quello urbanistico e del territorio, soprattutto per differenziarsi dai Verdi. Rutelli ha condiviso la posizione di Pannella di non lasciar cadere l'iniziativa politica che ha portato il Partito Radicale a indicare la sede congressuale in Jugoslavia. Ha rilevato inoltre che l'impostazione transnazionale e transpartitica ha già dato risultati concreti. Non c'è cambiamento nelle impostazioni del Partito Radicale, ma una continuità di iniziativa, anche se ci sono, ha detto, difficoltà nel portarla avanti. Come previsto, il Consiglio Radicale proseguirà ora i suoi lavori a Bohulin, in Slovenia, dove verranno tracciate le conclusioni di queste giornate, il giorno di venerdì, e verrà inoltre resa nota la località e la data di effettuazione del 35esimo congresso radicale.